c'è galline no ecco i mobili del del della linea cazzo quelli che ti dicevo che c'è è stressato il magapino ormai vive una vita vive una vita di stress shirling d'anni ottanta sheep dog sheep no come lo vogliamo chiamare il suo nome specifico border collie giacca del capitano giacca di schettino titanic no titanic 4 cappotto di diverso vecchio questa è tutta cinese ora la fanno quella racchetta racchetta da tennis racchetta da tennis a elia per il tiro a elia apri la perché voglio ma perché è così come è fatta a diventare così incredibile questa è introvabile cioè potrebbe valere migliore infatti guarda se ti ho sape bionborg ma se ti piglio per culo il magapino per le mie certezze questa è l'occhio questa col cielo ma quindi lavate vabbè vabbè qui abbiamo vari strumenti i bongoloidi scorta andiamo a vedere le altre zone qua non c'è un cazzo di interessante devo prendere le misure di queste cazzo ah ma te l'avevo portati qua i comodini porca troia questo tra l'altro la mia ex officina questa con calma bisogna chiuderti ora ascolta ma non è che so la bombola la bombola anche quella quella serve no bisogna di coccato ah lì c'è l'altro mobile sempre del letto porca troia vedi